Il lavoro di Alice con il governo è stato fondamentale in questi anni, ora c'è un nuovo governo. Alice ribadirà ovviamente tutte le istanze che ha fatto o cos'altro metterà sul piatto? Noi nel corso di questi sei anni, se non ricordo male, abbiamo visto cinque governi diversi. Lei capirà bene, bisogna continuare a ripetere ciò che serve, bisogna far capire quello che in questo momento è operativamente necessario e strategicamente importante per il futuro. Quindi noi è un lavoro che abbiamo sempre fatto, aggiungiamo oltre al lavoro importante che viene fatto durante gli eventi, durante il magazine, grazie anche alla channel, aggiungiamo la nostra professionalità attraverso dei documenti scritti che possono essere di aiuto a quelli che sono i politici o coloro che decideranno a livello governativo su quelle che sono le istanze e le necessità che il nostro settore ha bisogno, non solo per il proprio settore, ma per far rilanciare e ripartire un paese che mai come oggi capisce che la transizione ecologica è necessaria, ma non bisogna dimenticare la sostenibilità ambientale ed economica perché noi abbiamo per esempio nell'ultimo grande evento che ha fatto Alice parlato di socialità, quindi in verità non c'è una sostenibilità ambientale ed economica senza quella sociale. Anche in quello abbiamo fatto la differenza con Alice Academy e con la formazione, abbiamo iniziato dei protocolli di intesa con tantissimi TS, tante università fanno oggi parte di Alice, tanti TS sono entrati nel corso degli ultimi mesi a far parte di Alice perché oggi con un 40% di disoccupazione giovanile nel sud Italia è folle pensare che non si trovino autisti e non si trovino marittimi, quindi anche su quello stiamo cercando di dare risposte e siamo felici per i risultati raggiunti. Ha definito un paradosso però che insomma i ferro bonus e il mare bonus siano ancora dei livelli non corrispondenti a quanto invece produce l'intermodalità. Assolutamente, il mare bonus ha contribuito, non è solo il mare bonus, è grazie alle navi di ultima generazione, grazie alla professionalità e grazie ai camioni, ai seminimorchi di tutti gli associati di Alice che si è prodotto un risparmio di 3,4 miliardi. Quindi voglio dire se l'equazione è che un mare bonus pari a, diciamo, nelle anni è stato prima di 77 con il vecchio ecobonus, passato a 45 e arrivare oggi a 20 ma ha confermato a 40 per il prossimo anno, quindi per l'anno in corso e siamo felici di quello che ci è stato detto oggi dalla direttrice di Matteo, sicuramente questo ha contribuito a far risparmiare quei 3,4 miliardi di euro che in parte non sarebbero stati possibili se non ci fosse stato il mare bonus. Quindi il mare bonus è necessario e sicuramente volano per spostare ulteriori camion e non bisogna dare per assodato che se questo mare bonus non ci fosse i camion non ritornerebbero perché potrebbero ritornare, voglio dire, purtroppo sulle autostrade perché, voglio dire, le difficoltà ci sono e bisogna cercare di far capire invece quella che è la direzione giusta.